Ricordate Susanna Messaggio? Sicuramente sì, visto che è stata una dei volti medesette più famosi del passato. La Messaggio è iniziata come centronista di Portobello, accanto allo dimenticabile Enzo Tortola, per poi approdare giovanissima a Solediti del Biscione, dove è stata per anni la fedele balletta del Meco Buongiorno, in programmi storici come Tele Mike, Space Flash, Peace, diventando in breve tempo la protesia del pubblico. Ma com'è oggi Susanna Messaggio? Susanna Messaggio da poco compiuto 53 anni, ed ha approfittato di questa stagione per regalarsi un soggiorno in una spa di cortina, insieme al marito Giorgio Ligieri. La Messaggio nelle foto postale e sui profili social non fa certo l'impiangere la ragazza dove la vede coccionati accanto all'icona della TV in Meco Buongiorno. Immessa nel micro massaggio, ha sfuggiato un fisico da fariniglio al maventenne, nonostante due figli avuti. Dopo la spa, la Messaggio ha sfuggiato il suo compleanno con torta e champagne, insieme a suo marito ed un gruppo di amici. Bella e in forma come non mai.